Avete presente quante storie possono raccontare centomila persone? E soprattutto, avete presente quanti colori e quante idee possono trasmettere queste storie quando passano attraverso le emozioni della musica? La musica, sì, la conosciamo, la amiamo. È una parte meravigliosa delle nostre vite, sa essere stile, sa essere classe maestosa, sa dare vita ad interpretazioni uniche al mondo, ma è anche popolare, profondamente popolare. Unisce, abbraccia, mette insieme generazioni, sa sedurre senza tempo e col sorriso. Eh sì, quanto è importante tutto questo. E poi è bello viaggiare fra la via Emilia e il West. È bello conoscere, è bello essere sempre sintonizzati con quello che succede nel mondo, rifacendolo e ricreandolo poi a modo nostro. Conta metterci l'anima, conta la sincerità, contano anche un tocco di follia e genialità, perché no? Tutta questa passione ha bisogno di case, ha bisogno di luoghi dove ritrovarsi, dove condividere, dove costruire percorsi tra le passioni, luoghi che creano storie, luoghi che creano professioni, luoghi che creano emozioni, luoghi qualche volta che guardano al futuro, che lo immaginano, che lo ispirano, seminando in anticipo ciò che poi ha reso grandi Londra, Ibiza, Berlino. Lo sapevi? E divertendosi anche un casino. E allora sì, ci sono infinite emozioni e storie che possono raccontare mille, diecimila, centomila persone strette attorno alla musica. Vanno vissute, tutte vanno amate, vanno costruite, vanno coltivate con cura per poterle poi condividere con tutti. Grazie.